Perchè tu possa eseguire questa operazione hai bisogno di installare Google Chrome se non l'hai installato, quindi scaricalo. In questo breve tutorial vorrei spiegarvi come pubblicare da desktop su Instagram senza l'uso di nessuna applicazione. Allora, una volta che siete sul vostro profilo di Instagram andate a cliccare con il tasto destro sulla pagina di Google. Vi apparirà questo elemento, ispeziona, cliccate ispeziona. Una volta cliccato vi apparirà la console di Google, come vedete qua c'è un telefono e un computer, cliccandolo il nostro desktop si trasformerà in un telefono. Come vedete c'è un pulsante rotondo che quello sarebbe il mio dito, con quello posso scrollare l'immagine e andare a pubblicare la foto che voglio pubblicare. Quindi vado sul mio profilo della mia nuova pagina, vado a cliccare carica nuova foto, mi sono già preparato delle immagini, seleziono quella che voglio pubblicare. Una volta selezionata, qua posso aggiungere i filtri come se fossimo su Instagram, ma io non li uso. Vado a cliccare next, una volta cliccato incollo la mia caption, descrizione, e niente. Pubblichiamo, tutorial finito, spero vi sia piaciuto. Se vi piace quello che cerco di insegnarvi, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Grazie mille, ciao.